Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al sasso nello stagno. Ospite della puntata di questa settimana è Stefano Noro, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Verbano, Cusio Ossola, che ringrazio naturalmente per aver citato il nostro invito. Grazie dottor Noro. Grazie a lei direttore dell'invito e buongiorno a tutti gli spettatori. Dottor Noro, anzitutto mi tolga una curiosità, che differenza c'è tra dottori commercialisti ed esperti contabili. Allora, fino al 2008 esisteva l'albo dei Dottori Commercialisti, che erano i laureati con l'esame di Stato, e l'albo dei ragionieri commercialisti, che erano i diplomati con l'esame di Stato. Poi nel 2008 abbiamo unificato la categoria, è stato creato questo albo unico con una sezione A denominata Dottori Commercialisti e una B, Esperti Contabili. Nella sezione A sono confluiti i vecchi dottori commercialisti e i ragionieri commercialisti e nella sezione B gli esperti contabili, che è una categoria nuova. La differenza qual è? Che oggi il dottore commercialista è un laureato magistrale con l'esame di Stato, mentre l'esperto contabile è un laureato triennale con l'esame di Stato. In più ci sono delle competenze leggermente diverse, perché l'esperto contabile non può per esempio fare il sindaco nelle società, non può difendere davanti alle commissioni tributarie, non può fare il curatore e quindi qualche differenza c'è. L'ordine provinciale del Verbano Cusiossola in realtà si estende la sua giurisdizione al di fuori della provincia del VCO, vero? Sì, certo, perché segue la giurisdizione del Tribunale di Verbagna e quindi è un ordine che è a cavallo tra due province perché si estende fino alla zona di Arona, Dormelletto, Paruzzare. Quanti sono gli iscritti all'ordine? Allora, al momento siamo circa 200. Il nostro è un ordine, diciamo, con un'età media abbastanza alta. Il grosso degli iscritti è nella fetta tra i 45 e i 65 anni. Devo dire però che esaminando le statistiche delle casse previdenziali il nostro è un ordine che gode di buona salute, nel senso che i colleghi, tutti gli iscritti bene o male lavorano e hanno, diciamo, redditi buoni. Ci sono pochi giovani perché oggi non è una professione così appetibile come quando, per dire, mi sono avvicinato io, in quanto è una professione molto complessa, ci vuole molta dedizione, molta costanza e quindi, ad esempio, nell'albo dei praticanti che noi abbiamo, quasi tutti i praticanti sono dipendenti di società di revisione e quindi, diciamo, con professionisti che vogliono diventare commercialisti ma che probabilmente non faranno la libera professione. Senta, sono un po' irriverente, ma per molti il commercialista è quel professionista che ti aiuta a pagare meno tasse, magari a non pagarle proprio. Ecco, in realtà qual è il ruolo del commercialista? Allora, quello che lei dice, direttore, è molto vero, nel senso che l'opinione pubblica ha un po' questo stereotipo del commercialista, soprattutto magari chi ha meno a che fare col commercialista è tipo il lavoratore subordinato. In realtà le cose non stanno così, nel senso che oggi le responsabilità di un commercialista sono elevatissime e molteplici, i controlli anche sono sempre più stringenti. Quindi chi volesse assecondare i clienti in operazioni molto ardite probabilmente non fa una, diciamo, una buona fine. il commercialista oggi, secondo me, il bravo commercialista è quello che riesce a districarsi nella giungla normativa, è sempre aggiornato e coordinando le varie leggi e le varie norme riesce a far pagare al cliente non più del dovuto. Le giuste tasse. Esatto. Poi ogni commercialista ha delle sue prerogative, delle sue specializzazioni, tutti più o meno fanno contabilità, bilanci, dichiarazioni, ma poi c'è chi è specializzato nella consulenza del lavoro, chi nelle procedure concorsuali, chi nel contenzioso tributario. Mi sentirei di dire che in provincia, soprattutto, il commercialista è un po' l'uomo di fiducia dell'imprenditore. A volte è anche il suo confessore e, se vogliamo, a volte è anche il suo psicologo. E questo rapporto di simbiosi tra commercialista e imprenditore è anche spesso apprezzato dal cliente. Le dico questa immagine, che è uno stereotipo, fa venire in mente un film con Totò e tartassati in cui, appunto, di fronte alla finanza che gli faceva la contestazione, Totò diceva Ah, lo dirò il mio commercialista, perché lui, se lei lo dica pure, ma deve pagare lei l'ammenda. Ma spesso, anche sui giornali, quando c'è qualche truffa, vengono immediatamente classificati come commercialisti, poi dopo si va a vedere, nessuno è iscritto agli ordini. Ah, ecco, giusto, questo è interessante, anche perché di solito gli ordini hanno anche un compito, che è quello di difendere la deontologia professionale, quindi anche voi avrete al vostro interno dei collegi di disciplina. Certo, abbiamo anche noi il collegio di disciplina, devo dire che mediamente i nostri iscritti sono tutti disciplinati, però il collegio di disciplina sorveglia anche, per dire, sugli obblighi formativi, perché abbiamo degli obblighi formativi di 30 ore annuali e quindi chi non, diciamo, non li rispetta viene poi chiamato. Senta, invece c'è una persona che vi definisce bene, Giuseppe Roma, che è il direttore del Censis, questo grande istituto di ricerche sociologiche, e dice, i commercialisti sono diventati una professionalità indispensabile al regolare funzionamento dell'economia e la loro esperienza potrebbe essere ulteriormente posta al servizio del paese, quindi è un ruolo importante. Lei condivide? Beh, non posso che condividere, tra l'altro se si ricorda, direttore, lo scorso anno nelle televisioni nazionali girava uno spot promosso dal nostro Consiglio nazionale che ci definiva utili al paese. Utili al paese. Io credo che noi siamo veramente utili al paese, teniamo conto che dove c'è un'impresa c'è un commercialista e soprattutto che la categoria, attraverso la presentazione dei modelli F24, intermedia l'80% delle entrate del paese. Quindi se noi ci fermiamo le imposte non affluiscono alle casse dello Stato, se noi ci fermiamo le dichiarazioni dei redditi non vengono inviate e quindi anche i controlli non possono essere eseguiti. Di questo però devo dire che la politica, soprattutto di alto livello, non è ben consapevole perché non siamo proprio trattati bene a livelli istituzionali. Noi vorremmo come categoria partecipare ai tavoli dove si scrivono le leggi fiscali perché riteniamo, essendo operativi sul campo, di poter dare un apporto in termini magari di semplificazione, di pianificazione delle scadenze. Invece vediamo tutti gli anni, tutti i mesi scadenze che vengono prorogate il giorno dopo la scadenza. Vediamo produzione alluvionale di normativa, di circolari, leggi che escono che devono già essere modificate il giorno dopo o che per essere attuate necessitano di circolari ministeriali, decreti attuativi. Tutto questo va anche un po' a discapito della gestione dei nostri studi perché noi non possiamo, anche i nostri dipendenti hanno diritto di fare le ferie, hanno diritto di fare il sabato, di fare la domenica e invece con questa, diciamo, isterica legislazione fiscale, con tutte queste modifiche, proroga sì, proroga no, anche in questi giorni si sta già parlando della proroga del 30 giugno ma non sappiamo ancora niente. Tutto questo si ripercuote anche sulla gestione dei nostri studi e nei rapporti col cliente perché a volte non siamo in grado di dare le certezze che magari ci vengono richieste. Quindi è una politica, voi chiedete, intanto di essere tenuti in considerazione, di essere consultati quando si parla di una materia in cui voi siete esperti, ma esperti veri, concreti e poi almeno sulle scadenze di avere delle certezze. Esatto, e che le scadenze siano pianificate per tempo. Visto che le tasse non piacciono a nessuno, diciamo la certezza della pena, almeno nella scadenza. Esatto. Benissimo, ma senta, voi avete poi un altro ruolo importante, si parla molto, soprattutto negli enti pubblici, di trasparenza, correttezza, eccetera. Voi avete in questo caso un ruolo, soprattutto quando fate parte dei collegi di revisione dei conti, che devono certificare anche i bilanci degli enti pubblici, eccetera. Questo è un ruolo molto delicato, è molto importante che voi svolgeteli. Certo, è un ruolo molto importante. Il revisore negli enti locali è un po' l'equivalente di quello che è il sindaco nelle società di capitali. È di fatto l'organo di controllo dell'ente, quindi il revisore deve rilasciare i pareri di congruità sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo, come nelle società lo fa per il bilancio di esercizio e sostanzialmente è un po' il controlla e verifica che l'ente sia sempre in equilibrio economico, finanziario e contabile. E se poi si scopre che c'è qualcosa che non funziona, si ha la possibilità di segnalarlo magari in prima battuta alla Giunta o al Consiglio di Amministrazione nelle società e se le cose fossero più gravi anche, diciamo, agli organi giudiziari. Quindi è un ruolo molto delicato e molto importante a garanzia, a tutela della correttezza, la trasparenza della pubblica amministrazione e anche delle aziende private. Certo, tra l'altro per fare il revisore degli enti locali esiste un elenco apposito dove per poter essere mantenuti nell'elenco anche lì ci vogliono delle specifiche ore di formazione sulla contabilità degli enti locali e poi nei comuni, per esempio, il revisore viene sorteggiato su base regionale. Senta, io penso che pochi meglio di voi conoscono, direi in tempo reale, la situazione dell'economia di un territorio, perché diciamo voi avete sotto mano i bilanci delle aziende, le loro attività. Ecco, qual è stato e qual è l'impatto della pandemia sulla nostra economia, sull'economia del Verbano Cusio Ossolo? Quali settori risultano maggiormente colpiti? Devo dire che il BCO ha risentito un po' come tutto il territorio nazionale, per esempio noi siamo una zona a vocazione turistica, quindi il settore del turismo, che però non bisogna pensare solo ai bar, agli hotel e ai ristoranti, perché lì poi c'è tutta una filiera, ad esempio le società che lavano le lenzuola, le tovaglie, le società che forniscono i ristoranti e gli alberghi di cibo, alimenti, bevande, quindi poi tutto lo vedi, il mondo dello sport, dello spettacolo, del divertimento, il commercio al dettaglio. Devo dire che in controtendenza c'è stata la manifattura, perché dopo il primo lockdown tutta la manifattura è ripartita molto bene e tuttora sta andando abbastanza bene, ci sono ordini e c'è lavoro. Poi, se vuole dei dati della Camera di Commercio, nel 2020 nel VCO c'è stato un saldo negativo tra nuove imprese e imprese chiuse di circa 103 unità, che è un po' più, leggermente di più della media regionale, però la produzione industriale è stata sostanzialmente stabile grazie al settore della chimica e dei metalli che nella nostra provincia sono presenti. Poi dal punto di vista degli aiuti, le aziende hanno sfruttato quasi tutte il discorso della cassa integrazione, il discorso della moratoria dei finanziamenti bancari e chi aveva qualche problema è il rinvio dei pagamenti delle cartelle esattoriali della ex Equitalia. Soprattutto, a mio modo di vedere, la moratoria sui finanziamenti bancari che è stata recentemente prorogata fino al 31 dicembre, quantomeno per la quota capitale, è un provvedimento fondamentale perché ha permesso alle aziende di trattenere liquidità e io spero che sia per quanto riguarda i finanziamenti che per quanto riguarda la parte delle cartelle esattoriali ci sia poi un'uscita morbida, cioè non che il 30 giugno scadano i termini e il primo luglio devo pagare tutte le rate che non ho pagato fino a quel momento. Quindi ci vuole in ogni caso una via di uscita morbida e graduale. Più in generale, secondo lei, di cosa ha bisogno in particolare la struttura produttiva della nostra provincia per uscire da questa emergenza e riprendere a pieno la sua attività? Domanda difficilissima. Certo, domanda che si fa ai politici, si fa agli economisti, si fa a tutti. Allora, la mia opinione è questa. Beh, innanzitutto il VCO, come tutta l'Italia, ha bisogno di sicurezza sanitaria. Soprattutto noi che siamo appunto a vocazione turistica, abbiamo bisogno che le persone possano circolare e senza sicurezza sanitaria le persone non circolano. Poi dal punto di vista dell'impresa, oggi le tre parole chiave sono digitalizzazione, internazionalizzazione e salvaguardia delle filiere. Soprattutto la salvaguardia delle filiere la ritengo molto importante perché nei periodi di crisi si rischia di perdere magari eccellenze del territorio che supportano brand conosciuti. Pensiamo, non so, ai marchi delle rubinetterie, ai marchi del tessile che hanno però magari tutto l'indotto di piccole eccellenze che lavorano e hanno bisogno di essere sostenute nei momenti di crisi. A tal proposito io credo che sarà decisivo anche per il VCO il discorso del recovery plan perché per il Piemonte sono previsti vari miliardi. Io spero che la politica riesca a convogliare queste risorse non magari in mille piccoli progetti ma in pochi progetti veramente strutturali che possano dare la svolta al territorio. Io faccio parte anche del consiglio della nuova Camera di Commercio di Quadrante. Che tra l'altro proprio in questi giorni ha presentato il suo logo, la sua nuova denominazione. Posso dirle che la giunta presieduta dal Presidente Ravanelli è molto focalizzata sul discorso del recovery plan e quindi sono fiducioso che anche per la nostra provincia possa arrivare qualcosa di buono. Speriamo perché è una grande occasione da non sprecare con i finanziamenti a pioggia. Non è un discorso di tipo, tra virgolette, clienti rare. Contentiamo tutti quanti. In realtà facciamo delle scelte prioritarie e puntiamo su quello. E fondamentali e strutturali. Poi un'altra cosa che ho visto in altre province, noi qui abbiamo avuto l'esperienza in passato del tecnoparco. Adesso per esempio a Lomazzo, in provincia di Como, c'è un ottimo parco tecnologico per le start-up innovative, le PMI innovative. La stessa società che gestisce quel parco replicherà il modello nei prossimi anni alle ex officine di Agostini a Novara e alla ex Olivetti di Ivrea. Ecco, io credo che magari un incubatore, un parco per le start-up e PMI innovative potrebbe essere un'idea anche per il nostro territorio. Spieghiamo che sostanzialmente la parola incubatore ci aiuta. Aiutare a crescere, a far nascere, a crescere delle attività nuove. Che hanno brevettualità, che hanno tecnologia, che hanno idee nuove. E che hanno un grande futuro, soprattutto nelle nuove generazioni, che sono più portate rispetto a chi come noi ha qualche anno in più forse a intercettare il futuro. Senta, la pandemia in qualche modo ha cambiato il vostro modo di lavorare? Beh, sicuramente posso dire che l'ha cambiato forse anche in meglio. Innanzitutto all'inizio della pandemia, personalmente, ma credo anche molti colleghi, c'era innanzitutto il timore di morire. Non si sapeva bene a che cosa stesse andando incontro, si vedevano le immagini di Bergamo, di Brescia, eccetera. E poi il secondo timore era che tutti i clienti fallissero. Certo. Quindi... Automaticamente fallevate anche voi. Esatto. Dopo, però, abbiamo imparato a convivere, come sempre, anche con la pandemia. Abbiamo scoperto, ad esempio, lo smart working, che è uno strumento che, se usato intelligentemente, lo ritengo molto utile anche in periodi non pandemici. Non pandemici. Abbiamo imparato a ridurre gli spostamenti, quindi io sono arrivato negli anni passati a fare anche 60.000 km in un anno. Certo. Adesso, attraverso le riunioni online, si riesce ad efficientare il tempo e a spostarsi solo quando c'è veramente la necessità di farlo o il cliente lo richiede. E poi, anche da un punto di vista magari più tecnico, ci siamo forse più concentrati sugli aspetti finanziari del cliente, quindi la gestione finanziaria, perché in periodi di crisi, per stare in piedi ci vuole liquidità. Cioè, è molto più importante la liquidità del fatturato. E quindi, poi vorrei anche spendere una parola a favore di tutti gli iscritti del mio ordine, perché posso testimoniare che tutti si sono veramente spesi nei confronti dei clienti, fino all'ultima risorsa, nel periodo soprattutto del primo lockdown, dove magari alla domenica si mandavano i codici a teco di chi poteva aprire e chi no, dove di notte si facevano le istanze per le casse integrazioni, le istanze per i contributi regionali, per i contributi nazionali, i crediti d'imposta, tutta la, diciamo, la normativa dei sostegni. I colleghi, tutti i colleghi, si sono veramente spesi per i clienti e credo che la clientela possa essere stata soddisfatta di questo. Se non sbaglio, poi voi avete anche contribuito ad una raccolta fondi, una delle donazioni proprio contro l'emergenza del coronavirus. Sì, questo l'abbiamo fatto come ordine del VCO. Senta, sono decenni che sentiamo dire che l'Italia ha bisogno di una riforma fiscale, se ne parla anche in questi giorni, che da un lato alleggerisca un po' il peso delle tasse e quindi poi aiuti anche a una vera lotta all'evasione fiscale. Ecco, secondo lei qual è la riforma di cui ha bisogno il nostro paese fiscale? Allora, sì, dunque, in Italia il primo problema è che è troppo complesso pagare le imposte. E questo lo stavo per dire, cioè diventa difficile persino pagare le tasse. Esatto, perché lei pensi che anche solo quest'anno c'è un quadro dove bisogna riportare i crediti d'imposta, i sussidi avuti, sono 65 pagine di istruzioni, quindi non è possibile. Le leggi sostanzialmente sono leggi che durano lo spazio di poco tempo, sono leggi provvisorie, sono magari finalizzate al gettito del momento ma poi non c'è mai nessuna certezza. Inoltre, quindi, sicuramente bisogna ridurre le aliquote, soprattutto quelle del ceto medio, cioè le aliquote della fascia mediana. In secondo luogo, noi abbiamo un sistema che è basato sulla progressività dell'imposta, però se lei ha notato negli ultimi anni, gli unici redditi che di fatto pagano le imposte proporzionalmente sono quelli di lavoro, dipendente, autonomo e di impresa. Sono, diciamo, fioriti una serie di regimi a flat tax, tipo l'acedolare secca per gli affitti, il capital gain per i redditi di capitale, il sistema dei forfettari per coloro che, diciamo, hanno un fatturato basso. E questi, però, sono sistemi che funzionano. Funzionano perché c'è una percezione di aliquota accettabile e, inoltre, sono semplici. Quindi hanno permesso anche di ridurre l'evasione, per esempio, sulle locazioni. Certo. L'evasione sarà difficile sconfiggerla anche perché è bassa la propensione dell'italiano al pagamento delle imposte. Questo, diciamo, bisogna dircelo. E le aliquote sono troppo elevate e quindi di conseguenza... Ridurre le aliquote significa, forse, riuscire... È la prima decisione per combattere l'evasione, probabilmente. O, quantomeno, per togliere anche l'alibi. Esatto. A qualcuno che... Esatto. Secondo me, secondo me... Quindi semplificare, ridurre le aliquote. Oggi si parla molto anche delle cartelle, no? Cinque anni dopo di che vanno... Sì. Allora, sulle cartelle, la mia opinione è questa. È inutile continuare a rinviare all'infinito la scadenza del pagamento delle cartelle. Molte cartelle riguardano... Insomma, tutte le cartelle riguardano in ogni caso situazioni pre-Covid. Certo. Quindi, se si vuole veramente aiutare, bisogna aiutare chi ha risentito del Covid oggi. Non continuare a fare provvedimenti di rottamazione e stralcio su cartelle di 20-25 anni fa che, a mio modo di vedere, non hanno nessuna utilità. Gli aiuti, se devono arrivare, devono arrivare sui debiti che uno ha contratto in questo periodo pandemico. Per il pregresso, io sarei favorevole a un condono sul cartello esattoriale, stile quello del 92, dove le sanzioni furono azzerate e si pagò una percentuale del capitale. Quindi, anche perché questo è un capitolo infinito. Poi leggevo che qualche volta costa di più questa rincorsa delle agenzie delle entrate a tasse che non rileveranno mai di quello che poi è l'entrata effettiva, probabilmente. Mi pare che si parla di miliardi e miliardi che si sa già che non rileveranno mai. Sì, molte sono persone decedute, aziende fallite. Quindi non ha senso continuare a conservare questo portafoglio di crediti, quando sarebbe meglio attraverso, diciamo, un condono fatto bene, in ogni caso portare a casa dei soldi che non entrerebbero. L'ultima domanda è proprio questa, il rapporto tra gli italiani e le tasse. Diciamo, c'è un senso di sfiducia, nel senso che dall'altra parte l'agenzia delle entrate sembra quasi che voglia perseguire tutti, che dia tutti, veda in tutti dei possibili evasori. E da questa parte, no, il contribuente che vede in quell'agenzia il nemico numero uno. Quindi probabilmente va costruito un rapporto che è di reciproca fiducia, di collaborazione. Poi certo, chi sbaglia paga, però a certe volte sembra quasi sia un accanimento. Allora, personalmente posso dire che la qualità dei funzionari dell'agenzia delle entrate è migliorata moltissimo nel corso degli anni, perché ormai sono tutti laureati, tutti preparati, e quindi il livello è sicuramente salito. Il problema è normativo, secondo me, perché si parla molto di deflazionare il contenzioso attraverso gli istituti dell'accertamento con adesione, la conciliazione, ma poi il problema è che il mediatore non è terzo. Perché io subisco l'accertamento dall'ufficio controlli e vado a fare la mediazione con l'ufficio legale, ma sempre in agenzia di entrate è sto. Quindi la svolta potrebbe essere quella di avere un mediatore terzo, quindi un giudice terzo, un po' come avviene nella mediazione civile, dove sono gli avvocati che fanno da mediatori, per cercare di deflazionare il contenzioso e arrivare a una definizione buonaria. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento alla prossima settimana, arrivederci. Grazie a tutti.